Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Finalmente siamo tornati con un contenuto sul canale. Mi scuso subito se sono mancati negli ultimi giorni, però dopo Las Vegas è stato un po' problematico. Sono tornato comunque e oggi iniziamo con un contenuto che mi avete chiesto voi. Uno degli ultimi video prima della partenza per il CS è stato su questo case, ovvero il Cougar Conquer. C'è ancora la scritta al contrario perché i vetri sono invertiti. Sono riuscito però a organizzarmi, come potete vedere, a recuperare un attimo tutti i componenti per poter effettuare una build con impianto e liquido per questo PC appunto. Non andrò a utilizzare tutto, 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 tutto super nuovo. Andrò a, tra virgolette, riciclare una Z270 Gaming Carbon che avevo utilizzato per un altro video e un 7700K, però tutto il resto, bene o male, è nuovo. Iniziamo un attimo dall'alimentatore, il CMX della Cougar. Principalmente avrei voluto utilizzare un altro modello di alimentatore, però ho utilizzato questo perché è arancione e si abbinava benissimo con il case. Purtroppo questo alimentatore ha dei cavi arlecchino, quindi andremo a utilizzare delle prolunghe con il colore sempre arancione e nero. Per il liquido andrò ad utilizzare un liquido arancione e qui abbiamo il resto dei componenti. La scheda madre ve l'ho già detto, abbiamo una cosa interessante, abbiamo 250GB di SSD NVMe della XPG, però qui abbiamo, mi hanno deciso di dare, la copertura per raffreddare l'SSD che abbiamo visto anche al CES RGB. Quindi magari andiamo a metterla e vedere un attimo come sta all'interno di questa build. Qui abbiamo 16GB di RAM DDR4 della XPG, sempre. Infine per la scheda video abbiamo una 1080 Founders, niente di particolare, anche se come abbiamo visto oramai tutti i prezzi sono andati alle stelle, è praticamente impossibile trovare ogni scheda video. Ma la cosa più interessante è l'impianto a liquido. Mi avete chiesto in tantissimi di realizzare un impianto a liquido custom per appunto questa configurazione. Ho voluto però cercare di realizzare un contenuto un po' diverso e ho deciso di andare a testare questi componenti della Barrow. Avevo già utilizzato alcuni fitting per il mio PC, però tutto il resto dell'impianto era EKWB. Dovrei essere riuscito a rimanere su una cifra di circa 200 e qualcosa euro, poco più. Ho deciso di utilizzare Barrow per due motivi principalmente. Il primo è perché i componenti sono molto simili a quelli della Beats Power e il secondo è perché i prezzi sono abbastanza contenuti. Vi faccio un esempio, il Waterblock costa circa solo 32 euro contro i 60-70 quasi di quelli EKWB. Quindi sono anche curioso di vedere un attimo come andranno un attimo a comportarsi appunto nella configurazione. E nel caso dovessero soddisfarmi tutti i vari componenti andremo a realizzare insieme anche a Next un kit completo di tutti i componenti che andrò a utilizzare. Magari leggermente diverso per quanto riguarda la pompa con la tannica di riserva perché mi piacerebbe utilizzare una combo ma in quel momento non era disponibile. Però dovremmo riuscire a stare con un kit custom per il processore intorno ai 200 e qualcosa euro. Quindi abbastanza economico. Iniziamo dalla scheda madre che come ho detto prima è una Z270 Gaming Carbon della MSI. L'avevo già utilizzata per un altro video, ho perso il processore in questo momento. Ok, no, l'ho ritrovato. E andiamo ad installarlo ovviamente sulla scheda madre come al solito. Inoltre ho anche intenzione di realizzare un nuovo video su come assemblare un computer da zero cercando di farlo nel modo più dettagliato possibile. Direi di prendere subito uno dei primi componenti che è il waterblock del processore. Dovrei aver preso la scatola giusta per vedere un attimo come sono. Qui abbiamo la confezione con tutte le varie vitini. C'è anche una piccola chiave a brugola. Qui abbiamo il nostro dissipatore. Niente, non c'è nient'altro all'interno. Questa è compatibile teoricamente con Intel, con il socket LGA1151. Però ovviamente sono disponibili tutte le altre versioni. Il waterblock non sembra per niente male. Sotto c'è ancora la plastica. Però ovviamente non ci interessa solo il lato estetico. Dobbiamo anche vedere effettivamente come si comporta come prestazioni. C'è anche una versione quadrata. Attualmente non era disponibile ma eventualmente magari nel kit vedremo di includere anche quello. Mettiamo la pasta termica. E adesso teoricamente possiamo togliere la pellicola dal waterblock. E qui abbiamo il sacchettino con le viti per teoricamente fissarlo dalla parte posteriore. Allora, non è sicuramente la cosa più comoda da fare perché non rimane in posizione. Non c'è modo di tenerlo visto che le viti non vanno all'interno della scheda madre. E dobbiamo fissarlo dalla parte posteriore. E da qua dovrei riuscire ad avvitarlo. Ok, non l'avvito del tutto perché devo andare a mettere anche le altre. Allora, sicuramente il sistema di installazione per quanto riguarda il waterblock non è dei migliori. Anzi, è decisamente bocciato perché non lo so, personalmente non mi piace soprattutto con queste vitine piccole. Anche se probabilmente andrà a fare il suo lavoro. Avrei preferito un altro tipo di assemblaggio però hanno scelto questo modo in questo dissipatore. Sono curioso di provare anche quello quadrato per vedere se effettivamente magari ha un sistema di installazione diversa. Però va bene. Mi piacerebbe anche cambiare i loghi del case e metterci magari la mia tigre. Non lo so così tanto per. Allora, prima questo. Abbiamo messo la rama al contrario. Perfetto. Ok, primo slot andato. Adesso mettiamo anche il secondo. Ok. SSD NVMe della XPG adatta. Versione normalissima. Questo costa leggermente di più di un SSD M.2 normale però è NVMe. C'è anche uno sticker eventualmente nel caso qualcuno dovesse volerlo andare a applicare. Noi visto che in questa zona avremo la scheda video andremo a installare qui sotto l'SSD NVMe. Però non con lo shield di MSI ma con quello RGB. In questo caso diciamo che è abbastanza superflua come cosa ma non ha solo un fattore estetico ma come potete vedere qui c'è una piccola ventolina. Sembra quasi una piccola scheda video. E ci permetterà appunto di dissipare in modo attivo il nostro SSD NVMe. Abbiamo un pad termico con una copertura adesiva che io adesso non riesco a togliere. Effettivamente c'era anche dall'altra parte la linguetta per toglierlo quindi era molto più semplice però va bene così. Per l'installazione dell'SSD qui dobbiamo andare a fare una cosa leggermente diversa. Dobbiamo prima andare ad installarla sul dissipatorino e poi allinearlo con il buchino per poterlo fissare. E dovremmo poterlo far scorrere sulla scheda madre. Ok dovremmo quasi esserci. Ci sono un po' di cavi in mezzo. E prendiamo il case. Dobbiamo andare a togliere il vetro poi magari andiamo a metterlo anche dal verso corretto. Andiamo a montare la scheda madre. Ok. Poi qui andremo a mettere le varie prolunghe. Fammi vedere un attimo come ci stanno. Ok devo dire che non sembra male. Proviamo anche questa del processore. La metto dentro tanto per vedere un attimo un minimo di risultato. Il risultato devo dire è molto carino. Stavamo un attimo aprendo l'alimentatore. Abbiamo avuto una brutta sorpresa. Ovvero che è rosso. Cioè non so se si veda dalla ripresa però è palesemente rosso rosso rosso. In realtà non va malissimo perché nella nostra configurazione abbiamo anche le RAM e la parte inferiore delle SSD che sono rosse. Quindi però non mi piace tanto. Quindi vedremo. Intanto lo montiamo così eventualmente potremo pensare di smontarlo e riverniciare l'arancione. Personalmente già non mi piace la colorazione raga dell'alimentatore. Perché appunto andremo a farlo tutto arancione e nero e l'alimentatore rosso non si può vedere. Non mi piace. Piuttosto stavo pensando visto che abbiamo la gaming carbon potrei wrapparlo con il carbonio e togliere questa parte qua. Piuttosto di averlo di questo colore. Prendiamo un attimo la scheda video perché voglio andare a vedere un attimo per le misure. Poi non andrò a finire il PC oggi ma aspetterò i vostri commenti per terminarlo appunto per avere un vostro feedback. Allora la scheda video dovrebbe andare in questa zona qui. Ok. Perfetto. Dovrei anche fissarla. Però a me serve un attimo solo per le misure. Adesso prendiamo un attimo la tanica e la pompa. Ok. Perché voglio vedere un secondo le dimensioni. Ok. Dovremmo avere la tanica. Come vi ho detto avrei voluto utilizzare una combo per la tanica più pompa però purtroppo non era disponibile. E qui dovremmo avere appunto la pompa. Dovremmo andare a poter fissare insieme la pompa con la tanica di serva direttamente con un fittings maschio maschio. Adesso mi serve un cacciavite a taglio. O dovrei poterlo fare anche con questo. Vediamo se... Ok. E adesso dovremmo poterlo avvitare direttamente così. Ok. C'è un piccolo spazio tra i due ma non sembra neanche male. Teoricamente dovremmo poter andare a posizionare qui la nostra tanica. Adesso devo ancora decidere se mettere il radiatore sopra o davanti. Essendo un 240 probabilmente ci conviene metterlo davanti e sopra mettere solo le ventole in modo da avere anche più spazio libero qui visto che davanti non abbiamo niente. Devo capire un attimo bene come far fare il giro appunto ai tubi. Anche per questo video è tutto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ditemi che cosa fare con l'alimentatore. Un po' in generale se avete qualche consiglio. Come fare il giro dei tubi eccetera. Andrò a realizzare l'impianto a liquido solo per il processore in questo caso. Mi piacerebbe appunto come vi avevo già detto andare a cambiare anche il logo frontale. Magari la decoicomania sul vetro e metterci la mia tigre eccetera. In descrizione ovviamente come al solito vi ho detto che trovate tutti i vari link dei social. La sera vado in live su Twitch con un po' di CS, Fortnite o qualche gioco. E se volete anche venire lì a consigliarmi qualcosa va benissimo. E direi che da Blink è tutto e ci vediamo con il mio prossimo video. Ciao ciao!